Leonardo Di Cunzio Revisoree Quante volte ci siamo detti «Non ce la farò mai», «Non riuscirò mai ad arrivare a quell'obiettivo senza una raccomandazione» o «Questa cosa non fa per me». Questo me lo ripetevo anch'io, sì. Quando ho scoperto l'atletica avevo dieci anni. Vivevo in un paese in provincia di Bari, Palo del Colle, dove non avevamo una struttura adatta per l'atletica leggera, ma solo asfalto. Quindi ci allenavamo su una lingua d'asfalto di un chilometro accanto a una ferrovia, o alle volte anche nella scuola superiore, nella palestra scoperta, che potete vedere qui. Qui mi sono avvicinato all'atletica perché amo le sfide, le amavo e le amo ancora, e mi faceva arrivare prima, anche se alle volte un po' mi dispiaceva battere i miei compagni di allenamento. Così qui ho incontrato il mio primo allenatore, Giovanni Zaccheo, che ha visto in me subito delle potenzialità, sapeva farci divertire nell'allenamento, e quindi mi ha aiutato, mi ha assecondato a scegliere la disciplina che oggi pratico, che è la marcia. Perché mi piace la marcia? Perché è una fusione tra fatica, che occorre per fare tanti chilometri, ma anche tecnica. Perché la marcia si basa appunto su due fondamentali regole. Una è la sospensione, e quindi non bisogna mai lasciare il contatto col terreno, almeno con un piede. E l'altra invece è il bloccaggio, che si ha al momento in cui il tallone tocca il suolo e il ginocchio deve essere completamente teso. A tre errori, quindi a munizioni, si va in pit lane per due minuti, alla quarta sei fuori. Al contrario di quello che state pensando, io non ho iniziato subito a vincere. Anzi, in una delle mie primissime gare importanti, sono stato colpito da una squalifica. Questo per me, in età giovanile, era un peso grandissimo, enorme, non riuscivo a sostenerlo. E quindi nella mia mente c'è stato subito un dubbio. Ma la marcia fa davvero per me? Questo mi ha portato a smettere con la marcia. La mia fortuna è stata proprio il mio allenatore Giovanni, che all'inizio mi assecondava, e che così, a sorpresa, mi diceva, ma ti va di fare una gara di marcia? La mia risposta inizialmente era no. Lui sapeva che, forzandomi, io mi sarei allontanato. Quindi ogni tanto, così, questa domanda me la riponeva. Al che, un giorno, la mia risposta diventa sì. E credetemi, ad oggi, io non ho ancora capito quale strategia ha adottato il mio allenatore per riportarmi sulla retta via. Qui ho deciso... Io ho deciso di fissare il mio main goal. Qual è il mio main goal? Le Olimpiadi. Ho iniziato a vincere delle gare a livello regionale, italiane, a qualificarmi anche ad eventi internazionali giovanili. Fino a che ho deciso di alzare l'asticella. Ho cambiato città e allenatore. Mi sono trasferito a Sesto San Giovanni da Alessandro Gandellini e ho iniziato ad avere dei buoni risultati. Fino anche a qualificarmi al primo europeo dei grandi. Ma qui, un'altra delusione. Taglio il traguardo, terzo ultimo. Rifletto, cosa non ha funzionato? E ho capito da questa gara che non importa i tempi che hai fatto nelle gare precedenti, ma devi capire quale strategia adottare nel momento giusto in determinate gare. Così, il mio obiettivo, essendo le Olimpiadi, e il rio ci avvicinava, nel 2016 arriva un infortunio. Microtrattura da stress alla tibia a destra. Questo mi preoccupa perché, nell'anno precedente, avevo avuto lo stesso infortunio, ma a sinistra. Qui capisco quanto per me ha valore la marcia. La marcia per me è vita, è una passione. E senza di lei non vivrei come se fosse ossigeno per me. Quindi decido di andare avanti, di non fermarmi lì e di alzare ancora l'asticella. Che faccio? Cambio ancora allenatore e città. Vado ad Ostia, sotto la guida di Patrick Parcesepe, che è tuttora il mio allenatore. Con lui, nel 2017, decidiamo di eliminare uno dei miei piccoli limiti mentali, che è il cronometro. Abbiamo iniziato a greggiare senza, perché spesso, guardando il cronometro, vedevo sempre dei tempi più lenti di quelli che mi aspettavo. E questo mi demoralizzava. Così, gareggiando senza, ho iniziato ad avere ottimi risultati. Fino a che, a giugno 2019, e premetto, io ero convinto di non poter fare sotto l'ora e venti, giugno 2019, boom, record italiano, un'ora, 17,45. Sono incredulo, sono stracontento, ma le delusioni sono sempre dietro l'angolo. Arriva quindi i mondiali di Doha 2019, pitley, due minuti, da giocarmi una medaglia, arrivo quattordicesimo. Ok, al momento sono dispiaciuto, ma la mia vittoria, nelle sconfitte, è capire dove si è sbagliato per non rifare gli stessi errori. E in un'intervista, dico, tra le altre cose, ok, adesso dovrò vincere le Olimpiadi. Così continuo ad allenarmi, sempre con il mio obiettivo ben in mente. E arriva l'inverno 2020-21, dove per noi la preparazione invernale è davvero fondamentale. Che, un altro infortunio, non te lo fai, quattro mesi lontano dalla marcia. Che faccio? Non sto fermo, trovo un metodo alternativo, piscina, cardio fitness con frequenze altissime, mountain bike, e tutto ciò che potevo fare in palestra che non mi creasse problemi. Così ho continuato, ho ripreso a marciare, fino a che, a un mese e mezzo, dalle Olimpiadi, ancora un infortunio. Ma un'entità minore, riesco a marciare, ma non a svolgere l'allenamento previsto con il mio allenatore. Quindi, qui decido di affidarmi ciecamente del mio allenatore e del mio fisioterapista, ma voglio fare qualcosa anch'io. Mi dico, se a livello fisico non posso essere al 100% alle mie Olimpiadi, devo compensare a livello mentale. Inizio a ripetermi due frasi. Farò di tutto per vincere le Olimpiadi. Sono il più forte del mondo. Questa seconda frase non ha un fondo statistico, perché non ero il più forte del mondo, ma era una strategia di autoconvincimento. E così, fino a Tokyo, ho continuato a ripetermi queste due frasi ogni giorno. Arrivo a Tokyo. Io sono tranquillo, sono rilassato, sono sicuro di me. Negli occhi di miei avversari leggo l'ansia. E io sono tranquillo. Così siamo sulla partenza, sulla linea di partenza. Boom. Sparo. Si parte. Le mie sensazioni non sono ottimali. Che faccio? Mi ripeto, vai Max, stai bene, stai rilassato, stai tranquillo, sei il più forte del mondo. E quindi continuo così, fino al 17esimo chilometro. Qui è un momento clou della gara, dove i due giapponesi decidono di sperare un attacco, un cambio di ritmo devastante. in quel momento è come se io vedessi a rallenti. Li vedo allontanarsi pian piano. Io mentalmente, anche un po' da presuntuoso, faccio, ma dove volete andare? Io sono il più forte. Così cambio ritmo, li affianco, e poi mi metto davanti in totale sofferenza. Ora starete pensando, vabbè, poi vinci. No, non ancora, perché a un chilometro e mezzo dall'arrivo, la mia mente mi fa uno scherzetto. Inizio a pensare, tra la fatica, il fiato sul collo del giapponese, i giri infiniti. Max, anche nell'argento olimpico, comunque, non è male. Ma questo pensiero, nella mia mente, resta solo per un secondo. Perché poi ripenso a mia figlia, a mia moglie, e a tutte le scelte che ho fatto per essere lì, in quel momento, in quel posto, preciso. Quindi, riprendo lucidità, e dico no, io sono qui solo per vincere, non voglio nient'altro, non posso accontentarmi, perché probabilmente non mi ricapiterà più un'occasione del genere. Quindi mi metto davanti, cambio ritmo, e in totale sofferenza sto lì, sto lì e martello. Fino a che arriva il momento finale, ultimi metri. Vedo davanti a me aprirsi lo striscione, con scritto Tokyo 2020. Capisco che quello striscione sta aspettando solo me. In quel momento, sono incredulo, nella mia mente mi passa, mi scorre tutta la mia carriera, da quando sono partito, a dieci anni, fino a quel momento. Sono lì, mi avvicino sempre più a questo striscione, fino a che il mio ventre tocca questo striscione. E allora dico, ho vinto le Olimpiadi. a questo striscione. Grazie. Il sogno di un bambino è diventato realtà. Mi fermo a pensare da dove sono partito, dall'aver timore e dispiacere nel battere i miei compagni di allenamento a diventare il campione olimpico che sono oggi. Ho capito due cose. Uno, che sono diventato un atleta egoista, nel senso che quello che voglio me lo vado a prendere a tutti i costi. E due, che tutti gli ostacoli che si frappongono fra noi e il nostro obiettivo sono lì perché ci vogliono insegnare qualcosa. Noi siamo liberi se superarli e accettare l'insegnamento oppure stare lì a guardare gli altri che vanno avanti. Quindi quello che io penso degli ostacoli è che siano quel surplus che rende la nostra vita una fantastica avventura. Raccontata la mia storia, vi voglio lasciare con una domanda, con un quesito. Chi può dire se una cosa è possibile o impossibile se non si fa di tutto per raggiungerla? Grazie. 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 Grazie.